Due servizi di noti network statunitensi rilanciano l'iniziativa promossa anni fa dal comune di Latronico per incentivare l'acquisto di case disabitate nel centro del Pollino. Ora è boom di richieste da oltreoceano l'inviato Antonio Coronato con il montaggio di Michele Mauro. Sono americano, vorrei vivere lì. Se la comprassi, quali sarebbero le procedure? Lavorerei da casa tramite internet, fatemi sapere. La casella di posta del vice sindaco Vincenzo Castellano e i social network del comune di Latronico da due giorni sono intasati dai mail come questa. Al momento oltre 50 mail che richiedono informazioni da Stati Uniti, Cile, Canada, insomma un po' da tutto il mondo. Sono interessate principalmente ai processi per l'acquisto e informazioni sullo stato delle abitazioni. È l'effetto di due servizi pubblicati sui canali social dei noti network CNN e Fox che hanno raccontato l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale attraverso il portale La Tua Casa alla Tronico. Il comune da questa sorta di intervento di agenzie immobiliari non guadagna nulla, però garantisce che le abitazioni che sono sul sito sono effettivamente certificate, garantite, e che ciò che c'è scritto è la verità. Il progetto risale al 2013 ma è stato intercettato solo adesso dai giornalisti americani e l'impatto è stato formidabile. Sono migliaia le visualizzazioni sul sito che contiene proposte d'acquisto di una settantina di immobili per lo più nel centro storico. Creata in origine come opportunità per la cittadinanza, l'iniziativa è diventata una vetrina. Rafforza gli incentivi per i nuovi residenti che non pagheranno tasse comunali per 5 anni, 10 in caso di acquisto di un immobile da ristrutturare, e gli ambiziosi programmi di rilancio della città delle terme, come spiega il sindaco Fausto De Maria. Già stiamo pensando anche al futuro, quello di creare un brand, che è la città del benessere, con il wellness smart village, quindi creare proprio una cosa particolare dove l'Atronico, oltre agli investimenti sul turismo, ci saranno anche investimenti di venire a stare bene. Oltre alla convenienza, per attirare nuovi concittadini, all'Atronico puntano anche sull'accoglienza. Sembra braccia aperte, questo è ancora di più. Un paese già che accoglie bene tutti, più vogliamoci se aiutano anche l'economia. Accolgono di più le persone che vengono da fuori, sono molto ospitali. Cercheremo di dargli tutto l'affetto che è possibile, l'accoglienza nel miglior modo possibile.